Buongiorno da Italia, Zelanda 8, Delta Ecopapa, Alfredo, oggi 30 giugno 2018, ci troviamo sul terrazzo del grande operatore Enzo Icappotto Genghisier, il quale in questo momento sta sulla sommità del taliccio e sta provvedendo a ingrassare i cuscinetti reggispinta. Enzo, buongiorno a te, ha la parola. Buongiorno Alfredo, saluti per tutti gli amici. Presentati, presentati. S'approccio, corso, niente si è. Che si dice da là su Enzo? Eh, per il panorama. Vediamo Enzo all'opera, in sicurezza, con la sua cintura, ovviamente, per evitare qualsiasi problema di cadute, che sono molto pericolosi. Enzo, saluta che il video sta per terminare. Saluti da Icappotto col Filling Seer. Sta scendendo, sta scendendo. Eh, insomma, che scendendo un commento. Ok ragazzi. È stato faticoso? È abbastanza. Un po' di grasso di cibo e manutenzione. Ebbene, quella è ordinaria. Ciao, ti saluto. Saluto a tutti da Icappotto, Filling Seer, Z8, D e P, il video operatore. Ciao ciao a tutti.